Fidati di me, io so quel che faccio. Siamo nella bottiglieria dove un tentativo di rapina è stato sventato dall'uomo accanto a me, l'ispettore Sledge Hammer. Ispettore, ci racconti com'è andata. Bene, mi trovavo nel negozio quando sono entrati due bastardi con i fucili puntati. Sì, rapido ho estratto la mia magnum e li ho fatti secchi. Poi ho comprato del latte e un po' di uova, ed anche delle salsiccette da cocktail. Ispettore Hammer, ma quanto ha fatto nel negozio? Era proprio necessario? Oh sì, non avevo più niente in frigo. Stanto, ma cosa sta succedendo? No, siamo diventati novi per caso. Basta la messa con questo casino, chiamo la polizia. Sì, pronto? Scusi un attimo. Ehi, gente, piantatela di fare tanta cagnarra. Volete star zitti quando sono al telefono, eh? Non siete i soli inquilini, chiaro? Nemmeno lei, chiaro? Che ragazzo di gente, avanti, dica pure. Capito. Arrivo di corsa. Sentito? Fine della sospensione. Non possono fare a meno di un tipo sveglio, eh? O sia di me. Slech Hammer. Cosa succede? Perché non si passa? C'è uno che spara dal tetto. L'edificio è evacuato? Certo. C'è una carugna sul tetto, ma so io come fare. Sta parlando con me? No, davvero. Hammer, si mette al riparo. Vuole crepare? Ho beccato, ragazzi. Hanno un po' di 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 un po' Grazie a tutti.